Benvenuti a Close Up. Torniamo su un tema importante per i nostri Close Up che è il tema della fotografia contemporanea, un tema che stiamo affrontando con la stessa metodica che si usa per la pittura per cercare di definire quelle che sono oggi delle linee strategiche, linguistiche, concettuali all'interno di un linguaggio di grande diffusione, ormai considerato a tutti gli effetti uno dei linguaggi determinanti nella produzione contemporanea. All'interno di questo fenomeno sempre più complesso, sempre più mescolato a quelle che sono le dinamiche del progresso tecnologico, del passaggio ormai pressoché definitivo dall'analogico al digitale, anche se c'è ovviamente un ritorno, come sempre accade in questi momenti storici, ha un recupero di tecniche tradizionali analogiche legate alla pellicola, allo sviluppo e stampa, secondo metodi di ricerca più classica che diversi artisti della fotografia oggi ricercano come valore aggiunto e come preziosità aggiunta all'interno di un processo dove è la tecnologia spesso che domina e detta le regole. Ecco che poi analizzando, indagando bene un settore si scopre che poi ci sono delle punte che davvero del linguaggio riescono a fare un metodo e di questo metodo riescono a fare una forma di ricerca molto elaborata dove i contenuti e la forma riescono davvero a dialogare su una stessa linea guida. L'artista di cui voglio parlarvi in questo senso esemplare per definire proprio questo assetto di perfetta sincronia tra forma e contenuto si chiama Stefano Cerio, è un artista italiano come dice chiaramente il nome anche se in realtà lui si divide ormai da tanti anni tra la sua vita in Italia e Roma e il suo momento di vita altrettanto fondamentale a Parigi dove in un certo senso c'è questa bella e riuscita alternanza tra due città che riescono probabilmente a un artista curioso legato al viaggio legato all'esperienza cosmopolita a dare proprio una dimensione, un assetto di coinvolgimento e anche di concentrazione utile dopo i grandi cicli che poi sono appunto la parte di ricerca determinante per Cerio. Che cosa accade appunto? Ho parlato di grandi cicli e ho parlato di dimensione cosmopolita. Cerio è uno di quegli artisti che sta usando la fotografia con una matrice di sviluppo ideativo fortemente classica e una qualità tecnologica e soprattutto dal punto di vista tematico una qualità delle scelte fortemente contemporanea. Stefano Cerio lavora come buona parte dei grandi artisti della fotografia su cicli tematici chiusi per cui cerca di definire una storia con delle caratteristiche, con delle punte di qualità, di originalità, di intensità e di valenza utile a una ricerca che proponga qualcosa di nuovo e di diverso rispetto a quello che già si vedeva. Appunto come vi dicevo lavora per cicli tematici e sceglie dei luoghi e delle identità molto specifiche all'interno dei luoghi che siano poi la chiave di volta del suo lavoro. Intanto esiste una caratteristica che tocca tutti i cicli e in qualche modo lega le ricerche di Cerio che è quella di lavorare sull'idea del campo lungo, quindi di una dimensione panoramica degli spazi, una dimensione aperta, una dimensione dove l'occhio si distende in maniera molto ampia con un profilo panoramico da grande cinema, da grande inquadratura aperta verso l'orizzonte e dove l'altra caratteristica determinante è l'assenza della figura umana o meglio una presenza dell'uomo che si riflette in quello che l'uomo ha lasciato sul territorio come scarto, come rifiuto, come presenza appena accaduta o come presenza in divenire, quindi luoghi in cui sta per tornare un'umanità o in cui si è assentata momentaneamente un'umanità. C'è un ciclo che in un certo senso è esemplare di questa presenza assenza dell'uomo che è il lavoro che Cerio ha fatto sulle navi da crociera, si chiama Night Cruise, è un ciclo davvero in questo senso perfetto perché Cerio ha fotografato interni ed esterni di queste grandi navi del lusso da crociera senza presenza umana, che è una cosa assolutamente anomala per queste navi che hanno dei cicli di vita senza sosta dove tutto è scansionato con dei timing davvero al millimetro e al secondo. Ecco, lui è riuscito, già questa è un'impresa molto interessante per la visuale di un occhio trasversale, a entrare nel ciclo di vuoto di queste navi nel momento in cui non c'è presenza umana e poi lo ha fatto con la dimensione della luce artificiale, quindi con la dimensione della notte, del buio, degli spazi chiusi, illuminati, degli spazi aperti di notte, dove queste navi da crociera diventano dei magnifici set metafisici, dei luoghi davvero dell'animo e dei luoghi dove entriamo in una visione dello spazio e delle creature architettoniche che l'uomo ha saputo creare in questi anni in cui tutto ciò che è ovvio ovviamente assume una valenza spiazzante e trasversale. Le foto di questo ciclo, come tutti i cicli di Cerio, hanno un'ulteriore caratteristica che è quella di essere appunto realizzate con una tecnica frontale molto pulita, molto rigorosa, legata a una scuola che è la scuola di Dusseldorf, la scuola dei grandi artisti tedeschi, da Berni La Becker, arrivando ai vari Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Elger Esser, quella grande scuola di grandi maestri della fotografia che hanno adottato questa capacità frontale, realistica, diretta e quasi sempre a campo aperto e a campo lungo e quindi di narrarci una realtà appunto leggibile, visibile ed esistente ma con quella capienza che noi abbiamo vissuto nel grande cinema, nella grande fotografia storica dei primi anni del Novecento e che appunto questi artisti ci hanno riportato su una dimensione del colore e della tecnologia che le rende appunto molto affini al nostro tempo, mantenendo però quella caratteristica metafisica di una dimensione quasi senza tempo che le fa entrare in questa sorta di ciclo storico della grande fotografia. Così è avvenuto anche per i cicli come Chinese Fun, Aqua Park, luoghi anche qui, creazioni dell'umano, i grandi luoghi del divertimento in Cina, anche qui raccontati con questa assenza dell'uomo e questo stato di abbandono, semiabbandono dove davvero assistiamo a un qualcosa che è tra l'artificioso, l'alieno e il lunare, quindi davvero luoghi riconoscibili ma che svuotati dell'umano e svuotati di quella dimensione di lavoro quotidiano assumono un aspetto in qualche modo scultorio, installativo, assolutamente artistico ma con quella che è poi l'involontarietà che spesso i luoghi hanno nell'essere oggetti d'arte senza volerlo. Lo stesso è accaduto ad esempio negli Aqua Park, questi luoghi costruiti spesso in periferie urbane del sud Italia, in luoghi dove appunto l'abbandono si mescola con il degrado e tutto questo crea quello spiazzamento dove l'assenza di acqua, di persone, di gioco e di movimento cambia davvero tutto e ci dà del nostro pianeta, di alcuni luoghi del nostro pianeta, una visuale che supera lo stesso confine della fotografia realistica. Quindi davvero Stefano Scerio dimostra quanto questo linguaggio oggi sia un linguaggio ricco di sfaccettature, di dettagli che vanno letti con una certa attenzione e quanto poi la preziosità sia un valore aggiunto più che mai oggi in fotografia dove la tecnica di stampa, la qualità degli stessi cataloghi che diventano dei grandi libri dove tutto viene impreziosito anche dai grandi formati, dal confezionamento, dalla qualità grafica, dove tutto davvero contribuisce a darci della fotografia un assetto artistico e molto ampio nelle possibilità che tutto questo esprime. Quindi un lavoro che a mio parere si colloca oggi su un piano internazionale dove appunto il dialogo con gli artisti che vi ho citato, tedeschi ma non solo tedeschi, questo poi è un panorama ovviamente che coinvolge una serie di artisti che lavorano sulla documentazione ma anche sull'interpretazione e l'elaborazione dei luoghi. Quindi davvero un lavoro di confine e di connessione tra linguaggio e formule che poi appunto ci danno qualcosa che non è soltanto fotografia. Vi consiglio di scoprirlo attraverso il sito di Stefano Scerio perché tutto è molto pulito e ordinato come nel processo che lui adotta nel suo lavoro. Se potete scopritelo anche attraverso i libri che sono dei volumi che hanno quella qualità proprio panoramica orizzontale dei bei libri e dei bei volumi di fotografia e soprattutto scoprirete appunto un grande interprete della fotografia contemporanea italiano che quindi si collega a una grande tradizione ma contemporaneo e assolutamente globale nella sua dimensione tematica per ridarci un qualcosa del mondo che conosceramo ma che probabilmente non avremmo mai visto in questo modo e con questo occhio.